Grazie mille, come al solito molto gentili. Fattaci Europa, Fattaci Europa, Fattaci Europa, Fattaci Europa, Fattaci Europa. 52 punti li ha fatti, adesso questi qui non sono qui per mangiarsi un gelato, ma spesso proprio. No, assolutamente, cercheremo di riprovarci, questo è un po' come è sicuro, però dopo stasera basta con i festeggiamenti perché bisogna già pensare al prossimo. No, la prossima è dura, eh? E' un po' in vacanza, subito, no, no, io un po' in vacanza vado, però non dobbiamo volare nulla perché... No, noi cerchiamo di... dobbiamo stare sempre concentrati, un po' di vacanze e via. Questa è una città che le vuole bene comunque, sì sì, ma io le voglio bene altrettanto. Grazie.